il mio video perfetto e questo tono di voce quasi semina un ball questo video è stato gentilmente sponsorizzato da uno bravo se mi seguite saprete che vado in terapia da tempo e fra le altre cose mi sta aiutando tantissimo a vivermi la mia quotidianità e il mio lavoro con più leggerezza e spensieratezza anche nel periodo estivo io in particolare vivo molto male il periodo pre partenza fatto di scadenze e aspettative il periodo in cui sono via è fatto di sensi di colpa e inadeguatezza da quando vado in terapia queste sensazioni sono migliorate tantissimo d'estate potrebbero aumentare alcuni malessere emotivi sia legati alle aspettative di divertimento sia legati al far fatica a vivere l'estate in maniera spensierata qualunque sia il disagio che proviamo voglio ricordarvi che è valido e che merita la giusta attenzione anche in estate e un professionista potrebbe aiutarci a capire la fonte del nostro stress e aiutarci a cambiare alcuni comportamenti e prospettive per vivere più serenamente con uno psicologo online uno bravo puoi avere un supporto psicologico ovunque tu sia perché puoi parlarci sia da casa sia in vacanza uno bravo è il più grande servizio di psicologia online in Italia che ti offre una terapia di qualità a costi accessibili il percorso è su misura prima di iniziare è necessario compilare un questionario grazie al quale sarete indirizzati allo psicologo uno bravo più adatto alle vostre esigenze tra gli oltre 6.000 professionisti presenti il primo incontro conoscitivo è gratuito e ho anche il mio codice sconto chiara ASMR 10 del 10% valido sulla prima seduta a pagamento per i nuovi utenti io ringrazio ancora uno bravo per aver sponsorizzato questo video e io vi lascio il questionario il codice sconto e il link giù in descrizione e ora passiamo al video ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi 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 benvenuti in un nuovo video della serie il mio video perfetto ovviamente si intende un video il mio video perfetto da vedere come spettatrice l'ultimo video di questa serie l'avete apprezzato tantissimo quindi ho deciso di riportarlo quali sono le caratteristiche? molto ton clicking ton clicking ton clicking ton clicking ton clicking molti visual trigger in particolare ci sono un po' di tracing tracing tapping e questo tono di voce quasi semi l'ultimo quasi come se non avessi fiato e io adoro la follia quanto tono di voce veramente per me è il tono di voce perfetto tutto bello smer in particolare questo video sarà uno show in tell perchè per me i video semplici sono i video i miei video preferiti e ne approfitterò per farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto in Brasile anche se voi avete visto sempre che sono usciti dei video in queste settimane io in realtà ero via però spero abbiate apprezzato il fatto che io non abbia abbandonato il canale in queste settimane in queste due settimane ecco prima di cominciare mettete un bel mi piace lasciate un commentino per farmi capire se questo video vi sta piacendo la prima cosina che vi voglio mostrare sono queste infradito delle havaianas chi è mai stato in Brasile sicuramente ne avrà preso almeno un paio perchè sono quasi doppio infatti lì ci sono storie di havaianas ovunque anche nei paesini più suorati ovunque ci sono veramente tantissime fantasie in auguro le diverse sia per me che per le mie amiche e questo in particolare per la Carly vi faccio vedere sono delle havaianas con tutti dei cagnolini carini 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 vediamo qui c'è un carlino carugio qui oddio non so come si chiami questa razza però sembra un cane piccolino qui qui c'è un passotto mamma mia che tenerezza la Carly adora i passotti infatti appena ho visto le ciabatte quindi il passotto ha detto no vabbè queste proprio urlano in nome di la Carly peccato non ce ne fossero di quelle con i gatti queste orecchie lunghe questo coro più giovane da sausage ciò abbiamo qui poi un cane alto non so che razza sia ecco la scritta vallare ecco la scritta vallare ecco la scritta forte per le havaianas se avessi avuto spot in maligia le avrei comprate tutte c'erano di troppo carine unica cosa a volte in un modello c'erano magari solo un numero che era tipo il 37 se no ne avrebbe presi anche con la frutta esotica c'erano di harry potter, c'erano diversi personaggi per i bimbi c'erano quelle dei cartoni animati mamma mia bellissima 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 altro acquisto questo è di mio marito è quasi l'unico acquisto che ha fatto però lo faccio vedere vediamo se si vedrà questa è una maglietta del flamengo che è una delle squadre di Rio de Janeiro e che siamo andati a vedere al Maracanã al Maracanã è stata una bellissima esperienza andare allo stadio anche se non mi piace il calcio però sicuramente è un'esperienza molto caratteristica da fare a Rio ha preso proprio la maglia ufficiale purtroppo il flamengo ha perso quando ci siamo andati però comunque è stato bello anche proprio lo stile sponsor e tutto quanto è qui il simbolo il logo il flamengo il flamengo dovrebbe essere super giusto e sicuramente per qualcuno appassionato di calcio è una maglia carina da avere nella propria collezione penso ci sia una F e una G ed è del calciatore Pietro posso vedere anche delle scritte qui non sono, penso, siano tutti sponsor non sono molto esperta di maglia da faccia e devo dire che è stato anche bravo perché ne ho preso solo una quando tipo altri nostri compagni di viaggio perché sono andata con un viaggio di gruppo ne hanno prese tutte quelle che hanno trovato e mi fa piacere che l'abbia trovata perché anche un po' i colori del Milano è il contrario quindi su me è anche per questo che gli piace io voglio fare vedere altre tre cosine prima di tutto una banconota in Brasile ci sono i reais questi sono dieci reais che sono meno di due euro quest'anno il reais è crollato tantissimo tra l'altro quindi era tutto anche molto più economico rispetto banalmente all'anno scorso qui nei dieci dietro c'è un ara no scusate arara 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 sì che sono quei pappagalli pappagalloni colorati tipici della foresta amazzonica quelli si vede volare e li si riconosce perché hanno una coda molto lunga rispetto ai pappagalli sono molto più alti e grandi e non li abbiamo visti bene perché loro volano in alto quindi si vedono solo diciamo contro luce da sotto mentre volano se no è possibile vederli diciamo in cattività e questo non so chi sia forse vorrei saperlo ma non lo so e sto a virgilio non capisco perché dovrebbe essere qui e qui c'è scritto repubblica federativa do brasil do brasil mi sono innamorata persa del portoghese ma del del brasiliano proprio dell'accento brasiliano è una lingua stupenda 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 super musicale veramente bellissima da da sentire forse più dello spagnolo perché hanno tutti questi non lo so queste pronunce particolari veramente molto belle molto eleganti molto musicali veramente bella e poi penso sia una caratteristica però di un po' tutto sudamerica del modo di parlare un po' cantalenante mi ero scordata del caldo che c'è qui nello studio ora vi faccio vedere una cosa che trovate da qualunque parte in brasile direi nord sud ed è l'asai asai che dovrebbe essere in realtà famoso anche qui perché è un superfood non mi ricordo secondo me è pieno di antiossidanti fenoli antiossidanti direi come le cianine e appunto è usato anche come supplemento nelle diete eccetera e praticamente lì si trova spesso come una specie di granita l'asai fatto con le pacche schiacciate e poi vendono anche la polvere che può essere utilizzata mischiata allo yogurt in uno smoothie messo in gelato vediamo qui come è nel latte insomma in mezzo ai succhi i fruit queste cosine qui io l'ho preso pensando di metterlo appunto negli smoothie anche un bellissimo colore viola ho preso le confezioni e penso che parli di questa confezione la darò anche magari alle mie amiche se sono interessate e ne ho preso le confezioni perché ho guardato l'asai in Italia 70 grammi costano circa 8 euro qui con 8 euro ho preso 200 grammi quindi costa 226 grammi quindi quasi 3 volte di meno costa meno di 8 euro perché di solito facciamo circa diviso 6 quindi 45 diviso 6 non è vero fa circa 2 per chi fosse interessato a questo viaggio l'ho raccontato abbastanza in modo dettagliato su Instagram e mi trovate come aspettate chiara punto a s m l e ho caricato qualche shorts anche sul mio secondo canale che era presa secondo canale youtube in ogni caso siamo stati tre giorni a Rio de Janeiro una settimana nella foresta amazzonica proprio abbastanza isolati a 20 ore di battello della prima cittadina piccola ed eravamo in questo villaggio di santa anime più 17 posti letto e quindi diciamo che eravamo proprio in un ecovillaggio in mezzo alle persone del villaggio e l'abbiamo vissuta molto a contatto con la natura non c'era nulla di lusso era molto spartano ma l'ho amato così onestamente perché di solito i viaggi in amazzone si fanno magari tre giorni di viaggio dalla capitale dell'amazzone invece noi proprio ci siamo addentrati si stava benissimo e ho trovato appunto tutto sulle storie in evidenza su instagram e poi abbiamo fatto un po' anche manaus un po' san paolo per shopping per vedere altre città e poi per riprendere l'aereo però il focus era Rio più foresta amazzonica e mi è piaciuto da matti e vorrei tantissimo tornare in Brasile anche per vedere altre zone perché il Brasile è enorme 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 potresti farci cinque mesi e non lo visiteresti e non lo visiteresti neanche tutto ultimo souvenir che vi mostro e questo è molto nostro stile è questo questo l'abbiamo comprato nel villaggio in cui siamo andati ospiti in Amazzonia e appunto c'erano delle signore che facevano questo tipo di artigianato con il legno facevano gioielli facevano sculture e abbiamo preso il mio marito questa londra che in realtà purtroppo non abbiamo visto lì altri nostri compagni l'hanno visto visto i video che erano troppo carini facciano tipo sotto l'acqua lungo vosso col collo ti guardava ti squadrava ed è tipo una foca di fiume sembra quasi più una foca e e appunto abbiamo preso comunque questa statua di legno che ci piaceva molto e noi abbiamo altre comunque ci portiamo spesso artigianato in legno a casa per poi decorare appunto la nostra sala o il mio studio queste cose qui faccio un po' di tapping un po' Grazie a tutti. 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 Quindi, io spero, 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 questo video vi sia piaciuto? Questo video è semplice, ma secondo me è super, 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 super brevitoso, con tantissimi trigger, secondo me stupendi. Vi sia piacere, vi è 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 piacere, vi passare le luci e augurarti augurarti augurare a te una buona, buona, buona notte buona, buona notte sogni, sogni d'oro buona notte sogni, sogni, sogni buona notte buona notte buona notte vendiamo il chilesco buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte non c'è buona notte che li spera